Le origini romane di Trieste non vanno cercate a San Giusto come erroneamente si è pensato bensì decisamente più ad est. Si troverebbero infatti sul colle di San Rocco in zona San Dorligo della Valle non lontano dalla Baia di Muggia. A tale risultato è giunto uno studio realizzato da Federico Bernardini degli CTP e da Clavio Tuniz del Centro Fermi di Roma con la collaborazione dell'Università di Trieste e di Udine pubblicato nei giorni scorsi su una prestigiosa rivista statunitense e presentato stamani nel Museo Orientale. L'insediamento, un'area vasta più di 13 ettari, in pratica 13 campi di calcio, situato in prossimità dell'attuale sede della Varsila, è stato scoperto assieme ad altri due dalle dimensioni più ridotte attraverso le tecnologie LIDAR e GPR che permette di individuare strutture sepolte. Il sistema di fortificazioni messo in luce, costruito probabilmente durante la guerra romana contro gli Istri, 178-177 a.C., risulta dunque uno dei più antichi esempi conosciuti di architettura militare romana. Non è escluso che in un futuro non distante, qualora vengano reperiti nuovi fondi, si possa procedere ad ulteriori ricognizioni persino a degli scavi e che il sito possa quindi essere in qualche modo inserito in un percorso turistico alla stregua di quello che succede in altri paesi. Tutti gli interventi che hanno illustrato il ritrovamento, a partire da quello del sindaco Cosolini, hanno sottolineato più che positivamente il risultato di un lavoro comune che ha unito una volta di più le istituzioni accademiche di ricerca di un territorio piuttosto ampio, già che lo studio ha coinvolto anche l'Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti, la Soprintendenza, nonché le Comunelle di Bogliunze e la Protezione Civile e l'Ispettorato Foreste di Gorizia.